Eccoci, ciao a tutti! Scusate, non sono molto avverso a queste tecnologie. Ciao a tutti, benvenuti sul canale YouTube del gruppo Montefeltro Wet Shaving. Mi presento giustamente in rigorosa divisa Montefeltrina. Per chi non mi conoscesse, sono Matteo, uno degli amministratori del gruppo Facebook Montefeltro Wet Shaving. Parecchi mi conoscono già per via di questa faccia e delle gif che girano, ma grazie a Dio non è solo la mia di gif, ce ne sono tante altre di amici che prestano in modo scherzoso la loro faccia per commentare i vari setup. Comunque mi fa piacere essere qui, per me è una novità, quindi vi chiedo scusa magari per un po' di emozione c'è, vi chiedo scusa per la tipica cadenza vergamasca, ma questa è io corsi di edizione non ne ho fatti e non intendo farne, anche perché come sapete tutti noi di lavoro, noi chi è sul gruppo Montefeltro lo sa che siamo un gruppo comunque non legato a nessun produttore, nessun rivenditore, quindi noi di lavoro facciamo altro, grazie a Dio facciamo altro. Per noi la rasatura tradizionale è puro e semplice divertimento, ok? Dove c'è una, secondo noi c'è solo una verità, ed è quella che non esistono verità, nel senso che tutto è soggettivo, tutto è soggettivo, dai rasoi ai pennelli ai saponi alle creme ai dopo barba ai pre barba, tutto è soggettivo, perché come sapete un prodotto può essere stratosferico per qualcuno e magari meno per altri, magari per qualcuno il prodotto di bassa fascia, come si dice, è un ottimo prodotto, per altri magari un prodotto che ha un certo costo, di un certo livello, può non avere lo stesso effetto del prodotto di basso costo, quindi la soggettività regna sovrana, la verità non esiste, solo una c'è, che è questa, che non esistono verità, ma purtroppo, anzi per fortuna nel nostro modo di parlare, di condividere con gli amici del gruppo la rasatura, tutto è sulla soggettività, a noi piace divertirci, chi frequenta il gruppo l'ha capito, sì, condividere, però dai, abbiamo già i nostri problemi lavorativi, familiari di vita, dalla mattina alla sera o comunque durante la giornata, almeno quando entriamo sul gruppo lasciateci divertire e divertiamoci tutti insieme, che alla fine nessuno diventa ricco e nessuno diventa povero, anche se qualcuno dice che da quando fa parte Montefeltro che è un gruppo di stigatori all'acquisto, e questo è, scusate questa breve introduzione, ma essendo la prima volta che appaio e che mi appaio, tra le altre cose, ci tenevo a fare, quindi Montefeltro Wechieving, oggi parliamo, anzi oggi voglio parlarvi, per come la vedo io, quindi quello che dico è tutto soggettivo, quindi è la mia, è la mia opinione, che non vuole andare a diventare quella di altri, ma comunque visto che noi parliamo di condivisione, io mi piace condividere questa cosa e quindi oggi andremo a vedere, a narrare, a raccontare, a proporre e stigare, un prodotto che comunque è molto valido, un prodotto molto utile, un prodotto secondo me completo, un prodotto come diciamo sempre dalla A alla Z, un prodotto che poco vediamo nei vari, tanti dicono SOTD, S-O-T-D, io dico setup, anche se mi piacerebbe usare di più l'italiano, ma comunque nei vari kit da rasatura che vediamo nel gruppo, vediamo pennelli, suoni, ecco io oggi voglio indirizzare la mia attenzione, cerco di portare la vostra su un prodotto che ci piacerebbe vedere di più, perché è un prodotto Montefeltrino e poi capiremo il perché, secondo noi, quello che andremo a vedere è un prodotto Montefeltrino. Oggi, scusate se non sto in piedi, sono seduto perché sapete l'età avanza, è il fil di ferro che mi tiene vicino, è quello che è, vero, cazzata pari. Oggi parliamo degli stick da barba, il mio vecchio cavallo di battaglio, il mio vecchio pallino che ho iniziato ad utilizzare, se non dopo il secondo acquisto, subito al terzo, quattro anni fa quando ho iniziato ad addentrano in questo fantastico mondo, e bellissimo mondo della rasatura tradizionale, lo stick da barba. Lo stick da barba, ripeto io non sono un tecnico, non parlo di ingredienti, di inci, perché non sono un chimico, io di lavoro faccio tutt'altro, diamo terra terra, molto terra terra, noi Montefeltrini siamo terra terra, nel senso che pochi fronzoli e tanta sostanza, e secondo noi lo stick da barba incarna completamente la nostra filosofia. Cos'è lo stick da barba? Non è altro che un sapone duro, detto hard soap, comunque un sapone da barba duro, non di forma rotonda, ma di forma cilindrica diciamo, è proprio stick, una stecca, non so, partiamo da questo, che è quello forse a cui sono un po' perfezionato, che è quello della palmolive. La storia degli stick di preciso non mi è chiara, nel senso, ma non ho neanche voluto più di tanto approfondire, so solo che i primi stick da barba hanno fatto la loro comparsa verso la seconda metà del 1800, quindi non è proprio un prodotto nato ieri, è un prodotto che da questo punto, da quasi due secoli, accompagna i rasatori tradizionali, io li chiamo umilitonsori domestici, cioè la stragrande maggioranza di noi, coloro che sono tutti i giorni, un giorno su un giorno no, periodicamente, una volta a settimana, si fermano, si fermano, prendono tempo per loro, si mettono davanti allo specchio e si radono in maniera tradizionale, e si radono in maniera tradizionale, quindi la pogonotomia, che è l'arte di radere se stessi, quindi fatta questa premessa storica, è un prodotto che non è molto in voga, eppure per le qualità che, secondo me, ha un prodotto molto utile, molto valido, tanti dicono, eh lo stick da barba, sì, quando viaggio, ma anche no, perché quando viaggio? perché quando viaggio ho bisogno di aver con me questo, questo ingombro, posso averlo anche quando non viaggio questo ingombro, perché quando viaggio non posso portarmi una ciotola di sapone in tubo di crema, la comodità, sì, vabbè, allora, lo stick da barba è un prodotto a sé, come la pasta di sapone è un prodotto a sé, stick da barba, ci sono, ci sono diversi, generalmente non superano i centrogrammi di prodotto, possono essere confezionati in modo molto elegante, come il tabac, lo vedete tutto in un involucro di plastica, oppure in modo molto spartano, in modo molto umile e semplice, come piace a noi, in questo caso vado a fare riferimento ad alcuni prodotti tipici della Turchia, che come ripeto, si legano molto alla nostra filosofia, perché poca, poca scena, poco cinema, ma tanta sostanza, abbiamo ad esempio Arco, quindi avvolto nella sua carta, proprio, vedete, pezzo di sapone, derby, turco, che è stato il primo, scusate, adesso ogni tanto guardo, ma non so di qua, dirà, ma non sono tanto abituato, turco, questo è il primo stick che ho comprato quattro anni fa, vedete, parerlo uso, quindi vedete, ce n'è ancora, oppure questo che sinceramente ho comprato, ma non ho ancora provato, questo addirittura, non solo non ha la confezione carina in plastica, non solo non ha la carta, è dentro, semplicemente nel cartone, un pezzo di sapone, fatto così, però, cos'è che caratterizza gli stick da barba turchi, la profumazione, la definiamo profuma di marsiglia, profuma di sapone di marsiglia, non lo so, il termine esatto non lo so, oppure lo sapevo, ma adesso non mi ricordo, perché tempo fa qualcuno ci scrisse, ma no, non si dice così, la profumazione un altro, quello che è, per me sa di marsiglia, che non vuol dire che sa di pulito, il sa di pulito non esiste, secondo me, perché tutto è soggettivo, anche il sa di pulito dipende da cosa usa, dove abita e cosa fa, ok, quindi, però, capitolo che non c'entra una mazza, quindi, possono essere confezionati in modo carino, anche questi, Lea, spagnolo, addirittura, produzione dal 1823, oppure questo portoghese, che tra l'altro sono ottimi, ottimi prodotti, abbiamo gli inglesi Dr. Harris e Taylor, questo è Arlington, è tanta roba, l'olandese De Verwil de Hand, vedete, anche lui carino col suo copri, però, vabbè, sono tutti caratterizzati dalla consistenza, sono saponi duri, quindi, l'unico stick che attualmente io ho e non è, non ha questa durezza, è il Mennen, stick da barba Mennen, tra l'altro dice stick a rasé, due in uno, perché rasage più a pre-rasage integre, cioè, quindi dice, pre-barba e sapone da barba integrato, sì, ma secondo me, tutti gli stick fanno da pre-barba e poi arrivo, non dura tanto, però, quando parto, a parte la profumazione, che, sinceramente, non so a quale tipo di Mennen faccia riferimento, però questo è l'unico che, come vedete, ha una consistenza più simile alla pasta di sapone, sentite, che si differenzia da questo, ok? Quindi, a parte questo, a parte il confezionamento, più o meno curato, dove sta il bello degli stick da barba? Il bello degli stick da barba sta che abbiamo un prodotto completo, che utilizziamo, dal momento in cui lo estraiamo dalla sua confezione, oppure in questo caso lo togliamo dalla sua carta, andiamo a passarcelo in viso, ok? E andiamo ad utilizzare il prodotto direttamente, come si dice, dal produttore al consumatore, senza passaggi non commerciali, ma passaggi meccanici in mezzo. Spesso sento, leggo, vedo, no, vedo di meno ultimamente, però leggo, andiamo a smorzare sapone in ciotola, andiamo a stemperare, no, con gli stick non smorzi e non temperi, con gli stick tu prendi il prodotto nel suo insieme e te lo vai senza dispersione di nulla a mettertelo direttamente in faccia, direttamente e te lo spalmi come un gessetto, come un gesso bianco, sulla faccia, sulla zona da radere. Lì ti fa già azione da prebarba, è sufficiente il pennello, parti e vedrete il risultato. Utilizzeremo, finito questo brevissimo video, beh, brevissimo, mica tanto, però andremo a fare una prova reale di pochi minuti con il sapone da barba derby, perché è il primo, il mio primo stick acquistato, è anche in tinta con la mia maglietta, ma a parte le battute idiote, quindi, ma dov'è anche la comodità, è vero, ma comunque è comodo, la praticità, tanta roba, a livello chimico e meccanico abbiamo tutto addosso senza dispersione di nulla e la durata, è un sapone duro, ne regala di rasature, ne regala di rasature, quindi durano, durano tantissimo, sì, pa o sei mesi, dodici mesi, non è vero, non è vero, cioè, è vero dal punto di vista probabilmente burocratico, regolamentare, non entro il merito perché sono ignorante in materia, non lo so, però, cioè, questo c'era scritto forse anche, adesso non mi ricordo, dodici mesi, no, si chiama Pao, l'indicazione, che una volta utilizzato aveva dodici mesi, questi mesi ne ha quasi cinquanta, è ancora qua, non serve poi particolare attenzione per conservarli, luce, temperatura, c'è questo sapone duro, non è una crema e non è una pasta di sapone, che comunque anche quelle, sì, va bene, ma è chiaro che sono più soggette a deteriorarsi in base a prende la luce, non la prende, lascio aperto, prende aria, non la prende, sbalzi di temperatura, quindi comunque sono utilizzabili anche le creme, anche passati parecchi anni, sono utilizzabili, però magari non ti garantiscono quell'efficienza che ti può dare comunque un sapone duro, dove tutte le proprietà non si dissolvono col passare del tempo nell'ambiente o comunque nella zona in cui è riposto, ma rimane tutto qua, è tutto qua, in qualsiasi tipo di stick da barba è tutto qua, vedete che questo io lo tengo via, non è neanche incartato, quando serve, e io mi faccio il sapone, quindi faccio il pre barba, ce l'ho già su, quindi faccio con un prodotto, faccio pre barba e sapone da barba, poi va bene, posa rasatura, ok, ci sono alcuni saponi tipo questi che magari ti danno un buon posa rasatura, ma non eccellente rispetto ad altri prodotti come questo o questo che ti lasciano un ottimo posa rasatura, ok, quindi l'obiettivo di questa mia apparizione è quella di non estigare nessuno all'acquisto, però chi ha la possibilità, visto che hanno anche un costo, questo qua costa un euro, poi possiamo averli da un euro, da due euro, poi se lo compri su ebay chiaramente sapete questo prodotto in Italia non c'è, quindi dobbiamo andare a prenderlo, io l'ho preso su ebay mi sembra che di averlo pagato 7-8 euro, ma in sé costano poco, non so alcuni amici del gruppo che abitano in Germania, tipo Sandro Grosso, Angelo Bonelli, o Sandro che è abitato in Germania, non volermene, ma comunque trovano questi prodotti nei supermercati a prezzi come troviamo per esempio noi qua la Palmolive, la crema da barba Palmolive, ottimo prodotto anche quello, che se ne dica, non nascondiamoci, va bene, non ti lascerà il posa rasatura come un Martin De Candre, però comunque il suo lo fa la grande, quindi impariamo, quello che cerchiamo di trasmettere noi è, va bene tutto, ti puoi radere con tutto, il sapone fa tanto, ma non fa tutto neanche lui, ci vuole la mano, ci vuole il rasoio, per carità, non lo puoi, però impariamo ad apprezzare anche le cose umili, le cose semplici, sì, i saponi di un certo livello, per carità, ci mancerò anch'io, ce li abbiamo tutti, ma non denigriamo prodotti, non di basso livello assolutamente, perché non sono di basso livello, magari hanno un costo che uno dice avere un euro, cosa vuoi che valga, eppure vi dico che, e lo proverete, l'avete provato, li valgono, li valgono, quindi preparatevi, chi vuole, acquistate almeno uno stick, perché a breve faremo un contest sul gruppo, e quindi direi che ci siamo, io chiudo questa parentesi cavoli di 18 minuti, scusate, ma anche a scrivere io quando parto, poi parto, quindi magari uno dice, mi legge i post, se li legge, comunque che se non li leggete, che sono lunghi, non vi piace, assolutamente, però anche qua ero titubante, timoroso, poi cavoli uno inizia a parlare, a parte il guardare di qua di là, però alla fine ho detto quello che volevo dire, ok, quindi mi fermo qui, andiamo di là un attimo, facciamo una prova veloce di come si utilizza uno stick, ma non per insegnare niente, ma probabilmente anche per dimostrare a nessuno, ma soprattutto per prendere confidenza con un prodotto che merita di più, perché anche lui è un prodotto che accompagna i tonsori di rasatura tradizionale ed è giusto che anche lui abbia il suo spazio, il nostro obiettivo di questo contest è proprio come abbiamo lanciato l'Omega 81, come abbiamo lanciato, non so, il rasoio, il lupo, per dire, oppure abbiamo dato un po' più di risalto al Wilkinson Classic, anche lì, voi sapete che quando noi partiamo con una cosa e martelliamo, dobbiamo arrivare, non dico a chissà cosa, però comunque a dare risalto a un prodotto che magari fino a poco tempo fa, come ha detto Luca nell'ultimo video che ha fatto, era in un angolo del supermercato, oppure avevamo in un cassetto chiuso, impolverato, in disuso, quindi proviamoci, dai, uno stick, costano poco, non vi dico comprare, però dai, tra un po' facciamo il contest, più ce ne abbiamo di setup e più magari qualcuno è invogliato veramente a investire 2, 3, 5, 10 euro per avere un prodotto che vi dura veramente anni, vi dura anni, è lì che è un investimento, non sono soldi buttati, è un investimento, è comunque un prodotto che vi dura anni, ok? Vi ringrazio, scusate ancora, grazie per mi avete ascoltato e adesso facciamo, andiamo un attimo in bagno e facciamo una prova sul campo del montaggio e dell'utilizzo dello stick da barba. Ciao a tutti, grazie mille, a dopo, ciao! Usiamo proprio questo della Derby, a pennello borer, è secco, non è stato messo in ammollo, tenete sempre, come la vedo io, un bicchiere con dell'acqua, bagniamo il pennello, lo lasciamo in ammollo, ci sciacchiamo, chiediamo una sciarporta veloce, lo bagniamo un attimo sotto il rubinetto, chiediamo e partiamo. Quando? E lo spalmiamo come se fosse un gessetto, un gesso bianco che noi andiamo a espandere sulla superficie ovviamente da radere, poi se trovate un punto dove magari strofinandovi da fastidio, trovate un punto un po' più duro e volete grattugiarlo lì, poi comunque col pennello bagnato si può espandere tranquillamente in tutte le parti da radere. Quando sentite, si sente che comunque l'attrito inizia ad aumentare, vuol dire che si sta asciugando, quindi andate a togliere il pennello dall'acqua, senza tenere aperto il rubinetto, intingete la punta dello stick e provate e ripartite ancora, fino a che due o tre volte un'operazione così, intingete e partite. Questo è derby, cioè la base, ok? Appoggiamo lo stick, teniamo il pennello, lo strizziamo, tenete sempre il bicchiere, un po' di acqua, zero mollo, setto, labore. Sapete che quando ho finito non mi risciacquo, perché voglio lasciarvi al termine di questo minutino che manca, questa faccia, vi ricorderà il poveraccio, avete visto? Io penso che già così, ragazzi, questo è lo stick, questo è lo stick, è tanta roba, volete ancora un po' di acqua, volete, dovete... e questo è il famoso Boreal, da tanti di riso, anche da chi non l'ha mai avuto, non l'ha mai provato, secco, senza mollo, messo, sciacquato sotto il rubinetto, è fatto partire. Questo fa paura. Ok? Siete pronti? Siamo pronti per raderci, io ovviamente non mi rado adesso, però ecco, questo è il risultato. Queste cose sono quelle che piacciono a noi, quindi, ok le creme, ok i saponi, le pasti sapone, i saponi duri, ma forza anche con gli stick, che anche loro, è giusto che anche loro abbiano un posto in quello che è l'occorrente, il necessario di tutto quello che è la rasatura tradizionale, altrimenti non ci sarebbero stati, visto che ci sono, a chi piace usarli, per comodità, per tante cose, ma anche la qualità stessa, come avete visto, nulla è andato perso, né di acqua, né di aria, montaggi eriosi, montaggi acquosi, no no, sapone sul viso umido, pennello di maiale, neanche messo in ammollo, neanche messo in ammollo, sciacquato un po' sotto il rubinetto, sotto l'acqua, strizzato, e avete visto cosa abbiamo fatto, ok? Ricordatemi così, vi voglio bene, ciao! Buongiorno